Pensiero del giorno. Prendo del tempo per me stesso. Ho una vita equilibrata e ricevo le offerte di aiuto degli altri con grazie e gratitudine. Per me è sicuro chiedere aiuto quando ne ho bisogno. Trova del tempo per te stesso. Hai lavorato duramente e hai dato molto agli altri. Quindi noi angeli siamo qui per ricordarti di trovare un po' di tempo per te stesso. È giunto il tuo momento. Così come dai agli altri meriti anche di ricevere. Tratta te stesso come fai con le persone a cui vuoi bene. Come loro anche tu meriti attenzioni e cure. Permettere agli altri di aiutarti porta loro benefici perché provano la soddisfazione di dare. Quando accetti con grazie alle offerte di aiuto dalle altre persone, queste ultime si sentono orgogliose delle proprie capacità. Oggi assumi il ruolo sia di chi dà sia di chi riceve. Sono i due lati della stessa medaglia e sono ugualmente importanti.